Caro Andrea Galeazzi, in questi ultimi anni ho seguito e apprezzato il tuo lavoro sin dai tempi di HDblog, tuttavia, come avrai già immaginato dal titolo di questo breve video, non sono qui per farti complimenti meritatissimi, bensì per farti un pacifico cazziatone. Un cazziatone per alcune cose che hai detto in una delle tue ultime video recensioni di un televisore e in particolare in quella dell'OLED DLG, il GX65. Poi mi sono visto anche altre recensioni e mi sono girate le scatole anche per altri motivi, però in particolare in questa recensione, in questa DLG, dici una cosa nei primissimi minuti che va a toccare un nervo per me molto sensibile, che è questa qui. Ma partiamo subito con le immagini, vi faccio vedere appunto la qualità del pannello. Prima di tutto vediamo come l'ho settato, là in alto a destra, eco. Quando l'accendete va in eco, togliete subito l'impostazione eco, piuttosto lavorate con la retroilluminazione del pannello. Bellissima l'opzione cinema, poi ve ne parlo, ma vado sullo standard, che mi sono un po' andato a settare. Voi sapete, non sto a calibrare i colori con la sonda, non sto a fare misurazioni troppo tecniche, e questo perché, poi voi fate la misura tecnica, la guardate e dite, però non mi piace, l'occhio umano ha una sua percezione, ognuno di noi ha una propria soggettività di preferenza, di colori, di saturazione, eccetera, eccetera. Vi posso dire che però si calibra in una marea di parametri, poi ve li faccio vedere e il risultato è veramente eccezionale. Eh no! Eh no! La soggettività in questo caso non c'entra assolutamente nulla. Quello che c'entra è la fotometria, che è una scienza, che poggia le sue fondamenta sulla fisica e sulla fisiologia dell'occhio umano. La fotometria, su cui si basa anche la calibrazione di colore. Poi c'è anche la sondina e la misuretta, ma quella è un'altra cosa. Invece torniamo alla fotometria. Ora, da quello che io ho visto negli ultimi video, anche quelli più vecchi, mi sembra, o l'impressione, che tu abbia tentato di fare delle misure, probabilmente con degli strumenti di misura non particolarmente adeguati, probabilmente con dei segnali video non adeguati alle circostanze, probabilmente anche con una preparazione insufficiente, con una strategia inefficace. E poi grazie al piffero che l'occhio non gode per una calibrazione che non è venuta bene. Però, comunque, non ti preoccupare perché sei in ottima compagnia. Ha scritto le stesse identiche cose, qualche tempo fa, anche Roberto Pezzali di D-Day, proprio su una recensione di un TV LG, un OLED, anche lui. Non ti dico come, andate a finire. Ti dirò solo che, fortunatamente, Gianfranco Giardina ha richiamato a D-Day Paolo Centofanti e non mi sono incazzato più. Però, invece, torniamo a te. Ora, devi sapere che la stragrande maggioranza dei contenuti che vengono visualizzati sul tuo TV sono preparati e sono controllati attraverso dei monitor che vengono calibrati seguendo delle specifiche e delle raccomandazioni ben precise. Adesso ti faccio un esempio, per esempio. Qui, in AV Magazine, prendiamo la fotometria molto seriamente e anche le misure della calibrazione. Questo, per esempio, è un fotometro. Cioè, questo è uno strumento che misura solo la luminanza. Pensate quanto sono matto. E non si trova su Amazon, purtroppo, e costa un pochettino di più di una sondina. Non tantissimo di più, però un pochino di più. Questo, invece, questo è un colorimetro. Questo è molto più vicino alla sondina. Costa un po' di più della sondina, pure questo. Però, come tutte le sonde che misurano la colorimetria, è stupido. Veramente stupido, nel senso che, prima di fare le misure, bisognerebbe istruirlo, o, come si dice in gergo, bisognerebbe profilarlo. E il colorimetro si profila, di solito, con un altro strumento, che si chiama spettrometro. Meglio se questo spettrometro fosse ad alta risoluzione, come questi qui che ho. Questo, in realtà, lo uso per i proiettori. Questo, invece, sì, questo è nel suo setup per misurare i televisori, o comunque la luminanza. E, per non lasciare niente al caso, pensa te, anche gli spettrometri andrebbero sistemati, istruiti, con una lampada campione, che è quello che facciamo noi dentro la V Magazine, con questa lampada campione. Lungi da me dare un patentino per chi deve fare le recensioni dei televisori. Assolutamente no. Non solo, non serve assolutamente una strumentazione così precisa e così ricca, con un'incertezza di misura così bassa, per fare le recensioni dei televisori, le misure di televisori, anche se aiuta moltissimo, non lo nego. Basta anche una sondina da 100 euro. Cosa che viene fatta, infatti. Ci sono colleghi, riviste, che fanno misure anche con sondine molto economiche. Però bisogna, innanzitutto, conoscere i limiti di quella sonda. Bisognerebbe avere anche un po' di esperienza, pochina, ma soprattutto bisognerebbe avere una formazione adeguata. Ed esperienza e formazione sono due aspetti con cui non è mai troppo tardi fare i conti. Ok? E non solo sul video e sulla fotometria, perché nel video incriminato dell'LG GX65 tu hai detto una cosa anche sull'elettroacustica e sull'audio che mi ha fatto un po' sobbalzare, ed è questa qui. Perché l'audio mi ha un po' stupito. Parto da subito, alzare il volume, ve lo metto al massimo. Sentirete come non distorce, ma soprattutto la spazialità dell'audio è buona, pur ovviamente avendo delle casse abbastanza piccole, perché lo spessore è davvero decisamente limitato. Gli altri sono cristallini, si sentono veramente perfettamente. I bassi non sono bassi da subwoofer da 12 pollici, ma comunque... Eh no! Eh no! Quel televisore a quel volume, con quegli altoparlantini, è una merda! La distorsione è altissima! E lo posso dire perché l'ho pure misurata. L'ho misurata con questo, per esempio, che è una Duo Precision, è uno strumento di misura molto importante nel settore audio, con questo microfono, che è un Acco Pacific, un altro strumentino abbastanza significativo, con il suo calibratore. Non è che ti voglio dare per forza un patentino per fare le lezioni dei televisori, questo l'ho già detto. Quello che però vorrei fare con questa Pacifica Cazziata è aprirti gli occhi sulla fotometria, anche sull'elettroacustica, in modo che si eviti che in futuro, inconsapevolmente, tu possa dire delle cose che fanno girare le scatole a chi ha basato il suo lavoro proprio su questo. Potresti anche documentarti su una delle guide che sono su AV Magazine, ma soprattutto, se hai bisogno di un consiglio, io sono qui, sicuramente non ti sarà difficile trovare i miei contatti e sono a tua completa disposizione.